Musica Musica Ancora una inquadratura larga che ci ha mostrato lo specchio d'acqua del lago di Garda dove si è disputato questo 29esimo meeting del Garda riservato alla classe Optimist e poi le immagini più strette, guardate, di questi giovanissimi che sono anche molto attrezzati per affrontare quello che è il freddo che in questa stagione nell'alto lago di Garda è pungente soprattutto la mattina, la mattina sul presto prima che scaldi un pochino l'aria e insomma sono attrezzati con cerate soprattutto cercando di coprire bene il capo che è importante che non prenda freddo e non ci si bagni soprattutto c'è qualcuno che riesce anche a salutare forse più disinvolto, più sicuro di sé per molti, per moltissimi ricordiamo che è un'occasione per ritrovarsi qui è un problema perché la barca probabilmente ha scuffiato ha preso un'onda e si è riempita d'acqua bisogna molto velocemente fare in modo di sgotare di levare l'acqua con la sassuola dalla barca per cercare di farla ripartire ricordiamo che il secchio d'acqua sono tantissimi metri cubi e questo rappresenta un peso enorme quindi bisogna assolutamente cercare di svuotarla prima possibile infatti queste imbarcazioni, queste derive le derive Optimist che sono le più semplici proprio per l'iniziazione non sono dotate di quelli che invece hanno di un accessorio diciamo così, che hanno invece le altre derive più grandi forse un po' più tecniche che sono gli ombrinali cioè dei fori che consentono proprio di svuotare di far defluire l'acqua meccanicamente nell'avanzamento e questi giovani quindi sono sempre molto pronti molto allertati a levare l'acqua da soli e è una manovra in più che devono compiere questo comporta anche una certa difficoltà perché bisogna, come dicevamo, avere sotto controllo il timone la scotta della randa, l'assetto della barca capire bene quale può essere il peso quindi avanzare più o meno rispetto alla poppa della barca e poi soprattutto evitare che in barca entri troppa acqua è qualcosa che abbiamo visto prima perché se si appesantisce naturalmente la performance dello scafo la velocità, il target della barca non viene raggiunto oltre a questo la regolazione sempre fondamentale delle vele e qui c'è da dire che sicuramente molti equipaggi stranieri soprattutto la Svezia hanno dimostrato di conoscere molto bene questa barca in condizioni anche limite quando fa molto freddo quando il lago si trasforma come in un mare in burrasca o quasi, non è stato proprio il caso di questa edizione ma in altre edizioni ci ricordiamo un lago veramente molto impegnativo molto nervoso come Honda e qui alcuni paesi scandinavi ovviamente sono avvantaggiati perché sono abituati ad allenarsi, a veleggiare anche se nei fiordi insomma c'è un buon ridosso però con vento e mare molto impegnativo anche su delle barche così piccole così da iniziazione come è la classe Optimist Intanto vedete c'è un momento dove c'è l'arrivo c'è la barca Comitato che ha preso i tempi al passaggio e qui è il caso di ricordare proprio come sono andate queste regate va ricordato che a vincere nella categoria cadetti è stata la finlandese Kronoble secondo è arrivato invece lo svedese Bergström e invece ottimo terzo posto per l'atleta Guido Gallinaro di Riva di Riva del Garda, del Fraglia Vela Riva dunque un bel piazzamento, un bel risultato per questo velista mentre nella categoria Juniores nella Junior si è confermato come avevamo accennato poco fa il turco Dokmeci secondo posto per la Svezia con Jasper Stomansson e grande recupero della triastina Maria Vittoria Marchesini che è arrivata terza dunque un gran bel risultato che è stato un bel risultato che è stato un bel risultato Questa manifestazione, benché sono 28 anni che la facciamo, però ogni anno mi riempie il cuore, come volete che vi dica, sarò un nostalgico ma è quello che penso. Siamo stati fortunati, una giornata stupenda di vento, 10-12 metri costanti, è diminuito quando i piccolini, i cadetti dovevano fare la loro prova, quindi è stata una giornata eccezionale. Il tempo ci ha aiutato, però noi siamo, ritengo, stati molto bravi nell'organizzare ancora una volta un meeting di questo tipo. In acqua abbiamo saputo dimostrare la capacità, la professionalità acquisita negli anni, in pochi minuti siamo riusciti a sopperire a quali erano le cause naturalmente di momenti di particolare difficoltà e abbiamo saputo immediatamente intervenire per quanto concerne la perdita di un ormeggio piuttosto che sull'altro campo un'altra disavventura. La prima prova ho fatto un po' fatica perché c'era tanto vento, la seconda è già andata meglio. Non c'era moltissimo vento, sono partito in boa e ho subito virato e sono andato verso la boa. Ero primo, l'ho girata, però dopo c'era uno svedese che mi ha superato e alla fine ho fatto secondo con 10 metri di svantaggio dal primo alla fine per lo svedese. Abbiamo avuto un'edizione del meeting e credo all'altezza della situazione perché ha rispecchiato quello che erano i presupposti organizzativi che la faglia anche quest'anno si era posta per il raggiungimento dell'obiettivo successo. Chiaramente il numero dei partecipanti è sempre un numero di assoluta rilevanza, abbiamo un sacco di nazioni, non so neanche dire quante, a dire il vero ammetto la mia carenza in questo senso, però è una cosa entusiastica vedere il numero così alto di partecipanti e di nazioni partecipanti e l'entusiasmo che profondano sia gli allenatori che i genitori nel partecipare a questo evento che credo sia unico al mondo. Vela a vela la rubrica dedicata al mare e al mondo delle regate termina qui. Appuntamento alla prossima puntata e mi raccomando non mancate! Grazie a tutti!